Il problema della terra dei fuochi ci fa ritornare alla mente sicuramente il grave danno ambientale che ha contribuito al malessere di questa regione, regione Campania. Noi siamo con il professor Anthony Giordano che ringrazio innanzitutto per questa intervista per fare un po' il punto della situazione. Innanzitutto professore sulla prevenzione, ormai come dato acclarato che qui in Campania la situazione è peggiore che in altre regioni d'Italia, probabilmente il tutto legato alla questione ambientale, al problema ambientale che ci portiamo dentro, non ultimo quello della terra dei fuochi sicuramente, ma anche quello prettamente salernitano legato al fiume Sarno, questo fiume che stenta ad essere disinquinato, ad essere bonificato nonostante i progetti, nonostante i proclami. E allora io partirei da un dato. Il ministro della Salute qui a Napoli, Beatrice Lorenzina, ha annunciato un'operazione a 360 gradi chiamando in campo soprattutto la regione. Dice la Campania deve fare una grandissima campagna sulla prevenzione e sugli stili di vita facendo leva anche sul dato che probabilmente il picco campano nelle patologie tumorali deriva proprio dall'inquinamento ambientale. Lei ovviamente ci conferma questa tesi. No, io confermo la tesi che il problema dell'aumento di gravi patologie che affliggono la Campania e pian piano anche altre regioni come la scienza sta dimostrando, la scienza indipendente sta dimostrando, e sia ben chiaro, è un dato di fatto. Ora è chiaro che il ministro Lorenzina sposta un po' l'attenzione su quello che possono essere gli stili di vita perché gli stili di vita colpevolizzerebbe maggiormente il cittadino responsabile di questo e responsabile di quello di cui si nutre insomma della propria capacità di autogestirsi dal punto di vista della salute e quindi libererebbe un po' dalla pressione quelli che veramente sono i maggiori killer nella rossa regione che sono appunto le sostanze cancerogene che sono presenti in quantità enorme nei nostri tre elementi, aria, acqua e terra. E non è stato fatto nulla, ma dico nulla, ancora negli ultimi 40 anni che possa far vedere un cambiamento di rotta in questo grave stupro che ha subito l'agronocerino sarnese, quindi il sarnitano, ma anche le altre province della nostra regione, tra cui anche il Beneventano, l'Avellinese e chiaramente Napoli-Caserta. Una terra dei fuochi che non si limita sulla Napoli-Caserta, ma il problema della terra dei fuochi è oltre Napoli-Caserta e coinvolge l'intera campagna. Ad onore di verità, lei è stato uno dei primi che ha lanciato l'allarme ancora prima che venisse fuori poi lo scandalo della terra dei fuochi, se non altro per la conoscenza del territorio. Questo è un territorio inquinato e non da ora. No, il primo è stato mio padre, appunto 40 anni fa, che scrisse il primo libro dove studiò e descrisse la prima mappa della nocività e il grave problema legato all'ambiente e all'aumento di patologie tumorali nelle nostre regioni. Io ho continuato negli ultimi anni a studiare questo problema anche perché la regione, specialmente l'Agnuno-Casernese, è la regione di origine anche di mio padre, la mia famiglia, anche se poi sono andato a Napoli e quindi ho acceso i riflettori della mia conoscenza scientifica dal punto di vista affettivo e appunto dal punto di vista del mio studio su questa regione. E appunto il Sarno è un veicolo di sostanze, di veleni e di sostanze tossiche che forse è uno dei più pericolosi che esistono in Italia. Questo per dire che sarebbe stato indispensabile, e non da ora, avviare il discorso della prevenzione. La prevenzione a 360 gradi, anche come screening, insomma, cominciare a pensare a strutture sanitarie che potessero comunque avviare un'operazione di questo tipo. Però questo non è stato fatto, probabilmente nelle grandi città ma neanche sui territori. Lei aveva visto giusto, forse anche orientando un centro di riferimento nello stesso agro-noceno sarnese e comunque nell'area bagnata dal fiume Sarno. Io suggerì e proposi, forse tre o quattro anni fa, di creare un polo oncologico all'altezza nell'agro-noceno sarnese. Una regione, una zona in cui chiaramente la numerosa popolazione e la mancanza di infrastrutture non riusciva a monitorare e a controllare questa emergenza della salute. Dovuto a più fattori. Uno da una questione infrastrutturale, quindi non c'erano e non ci sono ancora delle infrastrutture all'altezza. E anche dal punto di vista della qualità, delle qualità professionali. Esistono pochissimi medici, io deputo degli eroi, che riescono in una certa maniera a poter, che sono così sul fronte di guerra, diciamo, a cercare di poter rendersi utili e arginare quello che è il problema della salute. Però la mancanza di conoscenze, di professionalità, presunzioni, arroganze, interessi privati, che sono superiori a quello che è l'interesse della salute umana. La medicina e l'oncologia purtroppo è diventato un business per pochi, che portano a creare questa disfunzione nel poter curare e prevenire i pazienti. Quindi un paziente, un cittadino che ha un qualsiasi problema, non sa dove andare, non sa che percorso seguire dal punto di vista della prevenzione. Uno, perché c'è una politica incapace, i direttori generali sono nominati dai politici, i primari, tutte le posizioni apicali sono nominate dai politici. È chiaro che il primario nominato da un politico non è un professionista che è in grado di portare avanti delle emergenze, ha una cultura scientifica per poterlo fare. Io volevo aiutare in questa situazione per cercare di portare anche la mia esperienza dal punto di vista professionale in America per anni, in maniera così disinteressata e anche gratuita. e proprio in questa regione, proprio in questa provincia, diciamo, ho avuto una serie di attacchi, ma anche di offese gravissime da giornalisti, da politici, da colleghi medici, chiaramente collusi, sindacalisti, quindi sindacalisti che dovrebbero proteggere i lavoratori, è vero questo, ma dovrebbero anche essere un punto di riferimento per i cittadini, invece si dimostrano essere probabilmente dei prezzolati o delle persone che fondamentalmente non hanno nessun interesse o nessuna cultura e comprensione del significato e dell'importanza della salute umana. E sono felice perché proprio tre o quattro mesi fa, ma sono felice dal punto di vista che almeno noi abbiamo una giustizia che funziona, perché io ho querelato, per esempio, il giornale La Voce delle Voci che aveva scritto un articolo proprio diffamante quando noi cercavamo di presentare il progetto anche sul polo oncologico e il Tribunale di Napoli li ha condannati in maniera molto dura e devo dire dando grandi soddisfazioni per l'incongruenza, per la superficialità, per la serie di bugie e di offese che hanno in fondatezza proprio della classica, l'hanno definito proprio come una classica esempio di cattivo giornalismo. Un cattivo giornalismo che poi io, venendo indirettamente in contatto con alcuni loro, ho capito che avevano il loro luogo tenenti sul posto, prendevano l'informazione di una sindacalista che non aveva nessuna conoscenza della qualità e della meritocrazia, del significato, di che significa andare a essere sindacalisti anche per rappresentare la classe medica e rappresentare i cittadini. Di qualche giornalista così che si dibatteva, così si agitava per cercare di trovare qualche scoop perché forse serviva ad aiutare, a coprire o a mantenere a qualche politico o medico che aveva degli interessi personali lo status quo e quindi l'incompetenza del territorio. Ed è stata una vittoria che io, i 20.000 euro che dovranno essere, io gli darò in beneficenza proprio a questa popolazione per la prevenzione e anche chiaramente le spese legali che saranno a carico loro. Quindi questo ha dimostrazione che queste forze positive, io parlo della giustizia professionale perché esistono anche delle professionalità di grande livello ma sono pochissime che non riescono ad arginare quello che è il grave problema, devono vigilare ancora più e con maggiore attenzione su questo territorio difficile perché purtroppo io ho il 90% della mia vita e del mio lavoro negli Stati Uniti e sul territorio ci siete voi. Lei ci crede al progetto di disinquinamento nel senso che veramente questo è un fiume che può essere disinquinato, trasformato da fiume dei veleni in fiume che può contribuire alla ricchezza di un territorio. Allora guardi, quando si studia il problema delle patologie e ci si rende conto che tipo di patologie affliggono il territorio si deve capire quali sono anche le cause che provocano quelle patologie. Noi sappiamo quali sono le cause, quindi prima di tutto bisogna eliminare le cause. I territori, i fiumi come i terreni possono essere così bonificati ed esistono le tecnologie, esiste la possibilità di poterlo fare e chiaramente però si deve smettere di sversare perché se da un lato noi andiamo a bonificare un specchio d'acqua e poi dopo continuiamo a sversare non riusciremo mai ad arrivare alla soluzione del problema. Questo non avviene. La politica, quindi la regione Campania, il ministero che si rimpallano un pochettino le responsabilità nessuno di loro sa cosa dover fare e come fare. Quindi il ministro dell'ambiente dovrebbe comunicare con il ministro dell'industria perché le industrie anche sversano dovrebbero comunicare con il ministro dell'agricoltura per proteggere i nostri prodotti eccezionali che abbiamo sui nostri territori con il ministro dell'ambiente, con il ministro della giustizia. Credeva in nessuno dei cinque dialoghi. Alla fine escono queste sentenze che vengono fuori solo per cercare di ammorbidire un pochettino la grande pressione che la scienza indipendente e l'attivismo indipendente come la Chiesa, i cittadini che adesso sanno la verità applicano al problema. Lo fanno per tante ragioni. Lo fanno anche per una questione elettorale perché è chiaro che queste zone tra la Campania muovono un numero immenso di voti e quindi stanno i cittadini realmente a non farsi fregare nuovamente dagli annunci falsi che questi pseudopolitici continuano a fare dopo tanti anni. Cambiano, però comunque usano gli stessi vocabolari.